Cari amici Avvio Virtuali, è il vostro comandante Cenzino che vi parla e purtroppo, come sapete, è successo anche a me. Ebbene sì, mi hanno hackerato il canale. Ma come è successo, direte voi? Perché è accaduto? Come è stato possibile che questa cosa sia avvenuta? Direte voi. Io principalmente credo di aver combinato una grossa fesseria. Sono proprio cascato in un tranello da principiante, si può dire. Cioè, credevo di aver scaricato un file sicuro, ma in realtà purtroppo era un maledetto malware. Tutto è cominciato proprio il primo gennaio, il primo gennaio di quest'anno. E subito dopo aver raggiunto i 1000 iscritti, mannaggia. E stavo cercando comunque un nuovo software per i montaggi video. Un nuovo software che comunque è a basso costo, che comunque potevo risparmiare un qualcosina. E quello è stato il guaio. Guardando alcuni video su YouTube, avevo trovato quello che pensavo facesse al caso mio. Cioè, un buon software di video editing, un basso prezzo. Ed è stata una grossa fregatura, proprio guardare quel video. E soprattutto scaricare quel maledetto file dal link che c'era nella descrizione. Perché poi stupidamente non ho fatto caso neanche ai commenti che c'erano sotto il video. Che magari avrebbero potuto mettermi in allarme, avermi fatto dubitare di questo video e di questo software che scaricavo. Ma non è finita qui. In sostanza ho fatto tutto, o quasi tutto, quello che non andrebbe mai fatto scaricando un file di dubbia provenienza. Comunque, ho scaricato questo file, seguivo le istruzioni che vedevo a schermo. E purtroppo non mi sono accorto, o me ne sono accorto dopo aver cliccato sul file eseguibile, che avevo un'estensione diversa da quella che vedevo a video. Ed effettivamente la cartella era leggermente differente da quella che guardavo su questo tutorial, si può dire. E purtroppo me ne sono accorto dopo. Ho cliccato due volte sul file eseguibile e ho notato che non succedeva la stessa cosa che succedeva nel video. Ho detto, porca miseria, vuoi vedere che questo è un virus? Ho fatto partire l'antivirus e mi ha confermato proprio il fatto che era un maledetto malware. Però lì per lì non ha fatto grossi danni, nel senso non mi sembrava che avesse fatto qualcosa di dannoso. L'antivirus l'aveva rilevato, ma non me lo poteva eliminare, non sono riuscito ad eliminarlo. Ma anche lì per lì non ho capito bene che cosa era successo, qual era il problema che si era inserito all'interno del mio computer. Comunque passo la giornata tranquillamente. Alla sera arriva un messaggio sul telefonino. La tua password del tuo account è stata modificata con successo. Immaginate il dramma, lo stupore. Ma cosa sta succedendo? Non ho modificato la password. Mi precipito immediatamente davanti al pc e il dramma. Cioè praticamente la password era cambiata, questo maledetto hacker aveva cambiato i miei codici di accesso, i codici di backup, l'email alternativa, il numero di telefono. Praticamente è come se vi prendessero, vi buttassero fuori di casa e vi cambiassero la serratura e voi non potete più entrare all'interno del vostro account. Quindi l'account di Google era bloccato, il mio canale YouTube non potevo più accederci, non potevo più fare alcuna modifica. Per giunta, il giorno dopo, il mio canale si presentava così. E mi sono messo a guardare ancora una volta su YouTube sbagliati video in cui appunto le persone che erano state acchierate dicevano come avevano risolto questo problema, che cosa avevano fatto per risolvere questo problema. E molti di questi consigliavano di mandare un tweet su Twitter taggando il team di YouTube per risolvere questa faccenda. Comunque non vi ho detto che molti YouTuber, anche quelli abbastanza famosi, quelli molto famosi, sono stati acchierati anche loro e hanno risolto. Quindi mi sono un po' rincuorato, nel senso vediamo se riesco a risolvere questa situazione. Quindi riprendo il mio account di Twitter che non usavo da un po' di tempo e lo rinnovo, comunque rimetto la mia immagine e tutto quanto anzi vabbè se volete andare a visitare il mio account di Twitter vi lascio il link in descrizione. Comunque chiuso a parentesi mi metto in contatto con il team di YouTube il quale mi ricontatta poi il giorno dopo e mi dà alcune informazioni su come poi svolgere il ripristino del mio account. quindi mi manda dei link dove vado all'interno di un form da compilare dove c'è all'interno delle parti che riguardano il mio indirizzo IP il mio indirizzo del canale, questo è molto importante. L'indirizzo del canale è molto importante quindi quando, se siete creatori di contenuti comunque postate i vostri video è bene che condividete su altri social in modo che vi ricompaia la stringa finale del vostro link che vi porta al canale vi faccio alcuni esempi ve li metto a schermo la parte finale è molto importante perché ve la richiede poi YouTube per ripristinare il canale perché la parte conclusiva del link del canale è associata poi oltretutto alla Gmail diciamo alla mail che utilizzate per il vostro account di Google queste due cose insieme sono associate sono molto importanti perché vengono richieste da YouTube per poter ripristinare il vostro canale oppure anche il vostro account semplicemente il vostro account è più semplice perché c'è stato un periodo in questi 23 giorni 20 giorni più o meno di buio totale del mio canale dove ero riuscito a recuperare il mio account di Google quindi con la mia email ma il mio canale era ancora compromesso quindi c'è stato un'ulteriore trafila per recuperare anche il canale quindi account e canale sono due cose si unite insieme ma per ripristinarle prima si va ripristinato l'account di Google e poi successivamente l'account di YouTube comunque fatto sta che c'è da compilare questi moduli ma comunque le istruzioni vi vengono fornite tutte da YouTube adesso non ve le sto a ad elencare che cosa c'è in particolare nello specifico però sappiate che YouTube vi aiuta riuscirete a ritornare a a riavere il vostro canale basta muoversi appunto per tempo e dare le giuste informazioni che vi vengono richieste da YouTube ok ragazzi comunque adesso il canale è di nuovo sicuro è funzionante ho ricambiato le password e mi raccomando aggiornate sempre le vostre password costantemente anche una volta al mese o una volta ogni due mesi riaggiornate le password fatele più complicate possibili mi raccomando segnatevele fatele scrivetevi un un quadernetto io ho un quadernetto dove adesso mi sto segnando tutte le password che ho dovuto rimodificare da capo per sicurezza mia personale le ho modificate tutte quindi password di Amazon di di Netflix per dire di qualsiasi account voi abbiate importante soprattutto anche quelli delle banche cambiatele spesso perché è molto importante perché può accadere quello che è accaduto a me quindi mi raccomando è molto importante la sicurezza dei vostri account e non fate stupidaggini come ho fatto io di andare a guardare video di dubbio provenienza e cliccare su su software che non si sa da dove provengono mi raccomando questo è tutto comunque la normale programmazione del mio canale continuerà questa è una parentesi che spero possa essere d'aiuto a chi come me si è trovato in questa situazione di di smarrimento di violazione proprio perché la sensazione è quella di essere violati completamente e rivolgetevi comunque a youtube a google vi aiuteranno sicuramente ci sono diversi modi per accedere a recuperare il vostro canale twitter è una di quelle ricreate comunque un altro account di google e da quello riuscirete a mettervi in contatto comunque con google con youtube in generale e vi aiuteranno quindi twitter è un passaggio di quelli e poi comunque vi daranno le giuste istruzioni l'importante è partire avvisare di quello che è accaduto e poi successivamente verrete contattati e vi daranno le istruzioni seguitele passo passo fate quello che vi chiedono di fare e riuscirete comunque a riottenere il vostro canale come ho fatto io e come state vedendo ok adesso comunque chiusa un'altra parentesi la normale programmazione continuerà e ci vediamo per i prossimi video e arrivederci un abbraccio ringrazio il team di youtube stavo dimenticando ringrazio il team di youtube di google che mi ha aiutato e la gente che mi ha dato supporto in questi giorni un saluto dal vostro comandante censino alla prossima ciao